No, perché c'è un'età per tutto. Non si può procrastinare nel fare sempre le stesse cose per tutta la vita. È durata già troppo. Non esiste nessun personaggio di cabaret che sia durato quanto è durata De Borina. Ma oggi non ho più proprio l'età per fare quel tipo di personaggio che amo, che adoro, che mi ha molto divertito, che è stata una grandissima critica ad un certo tipo di volgarità, cosa che molti non hanno capito, ma De Borina era una enorme critica a tutto ciò che io abborro. Ma oggi che senso ha se ci sono account che puoi andare a guardare su TikTok che parlano esattamente come parlava De Borina. De Borina faceva ridere perché era una critica a quel tipo di ignoranza e a quel tipo di volgarità e quindi la esasperava. Oggi ce li hai a portata di mano e sono anche peggio di De Borina. Per cui non ha proprio nessun senso più fare quel tipo di personaggio perché la realtà purtroppo ha superato la fantasia del cabaret. Per cui non ha proprio nessun senso più fare quel tipo di personaggio è un senso più fare quel tipo di personaggio. Per cui non ha proprio nessun senso più fare quel tipo di personaggio. Per cui non ha proprio nessun senso più fare quel tipo di personaggio.